Annullato in extremis lo sciopero di otto ore alla Magneti Marelli di Sulmona previsto per domani. Per i sindacati tuttavia tanti i problemi che restano. Dopo la presa di posizione ieri della FIOMCGL della provincia dell'Aquila che aveva annunciato lo sciopero, questa mattina la revoca delle otto ore di astenzione. L'azienda d'accanto suo ha stoppato il recupero produttivo programmato per la giornata di domani. Ma ai sindacati tante questioni non vanno giù, compresa la comunicazione dei turni via sms e whatsapp ai dipendenti dello stabilimento di Sulmona che produce componentistica per le automotive. 545 dipendenti dei 650 totali sono in cassa integrazione rinnovata per altre settimane. La FIOMCGL è preoccupata in generale per il futuro della fabbrica. Ci sono, dicono, macchinari obsoleti, si teme per gli investimenti futuri, una gestione insomma piena di contraddizioni che non rassicura. Elvira De Santis, segretario generale FIOM, ha chiesto spiegazioni. Come si fa a conciliare lavoratori che da più di un anno non completano una settimana di lavoro, regime di cassa integrazione, utilizzo le 18 turni. Una situazione incresciosa insomma aggravata anche dalle comunicazioni dell'azienda e lavoratori fatta con ordini e controordini impartiti con messaggi cellulari. Intanto rientra la protesta per vista per domani.